Un'ottima pizzata fatta dai nostri cuochi 1 e 1-2, non dico i nomi perché non si può per la privacy, adesso un'ottima torta di pere al cioccolato fatta da 1 e 1-2, non dico i nomi perché non si può giusto. Bravo perché c'è la privacy. C'è la privacy, poi mi denuncio. Se non mi ripa prima la liberatoria. Esatto, perché la liberatoria non è per la faccia, è per il nome. Se te filmi 1 e non gli chiedi come si chiama, lo puoi mettere sul tubo. Esatto. Poi c'è lui e lei, poi c'è lui e lei e poi basta, e poi ci sono io. Siamo tutti lui e lei in questo clippino. E poi c'è la Coca-Cola che non si può filmare perché è pubblicità occulta. E a posto. Ma si può dire il nome. Ma si può dire il nome perché la Coca-Cola gradisce. Esatto. È un clippino intelligente questo qua però. Se uno lo guarda dice... C'è un sacco di informazioni utili. Un sacco di informazioni utili. Ma è buona sta torta? È buona. È buona. Un applauso a lui che l'ha fatta. Mi chiamava la fatta lei. Era buona. Quella buona la facevo io, però la punta l'ha fatta lei. Esatto. Ciao.